bello a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale dal vostro nico gaming buongiorno ragazzi che come sempre la mattina vi tiene aggiornati sulle ultime notizie riguardo il coronavirus in italia e nel mondo ovviamente allora cominciamo a vedere le ultime notizie di questa mattina allora ci sono le prime riaperture di librerie cartolerie e negozi d'abbigliamento per l'infanzia con differenze però da regione a regione intanto il governo studia intanto un possibile anticipo della fase 2 per far partire alcune attività come la moda l'automotive e la metallurgia dalla prossima settimana in testa andremo al mare questa estate assicura la sottosegretaria buonaccorsi però intanto continua in italia il calo dei malati e dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus però in controtendenza c'è ancora la lombardia con un aumento di contagi e morti le vittime a livello nazionale intanto hanno superato quota 20.000 per quanto riguarda le notizie nel mondo intanto in america si registrano altre 1509 morti di coronavirus in un giorno per un totale di oltre 23.000 trump intanto stop i governatori dicendo gli spetta a me riaprire la nazione approda poi in vicinanza rai lo scontro sulle parole di content tv contro salvine meloni oggi pomeriggio infatti si riunisce l'ufficio di presidenza coronavirus intanto sono ci sono sono stati anche superati 18.000 morti in spagna intanto la commissione europea ha dato il via libera a un provvedimento che consentirà interventi in favore del settore produttivo per far fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus perciò per il momento diciamo non tutte le regioni faccia fa non è sicuro che tutte le regioni diciamo fa facciano aprire determinati negozi diciamo ecco dipende da regione a regione comunque speriamo bene speriamo di ah già e c'è ovviamente e come sapete non so se l'avete letto anche su internet stanno anche cominciando a testare sull'uomo i primi vaccini perciò speriamo bene ragazzi speriamo di poterci fare come sempre mi raccomando vi ricordo di continuare rispettare le regole naturalmente di lavarsi le mani tenere pulito il proprio ambiente dove siamo di mettersi la mascherina quando siamo all'aperto di uscire solo se strettamente necessario eccetera 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 insomma queste cose sapete insomma per quanto riguarda i contagi nella mia nella mia zona in toscana per il momento ieri ci sono stati soltanto soltanto 5 contagi in più in provincia e soltanto mi sembra se ricordo bene due o tre contagi in più qui ad anzi no un contagio un contagio solo qui ad arezzo perciò diciamo che qui la situazione qui ad arezzo nella mia nel mio comune diciamo sono abbastanza buone diciamo ci stiamo comportando abbastanza bene voi naturalmente dovete continuare così non bisogna abbassare la guardia anche perché sennò qui ragazzi non se ne cavate le gambe e niente come sempre vi invito a lasciare un like e a continuare a seguirci mandando il vostro supporto iscrivendovi al canale come sempre tutte le mattine saremo qui per un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il coronavirus nel pomeriggio come sempre faremo una live su dei giochi di ruolo con un amico in collegamento da milano e poi via via in questo settimana dovrebbe arrivare anche una nuova serie sul canale perciò per il momento mi fermo qui e a presto ragazzi per un nuovo video ciao